Per fine mese sarà depositato il dossier all'UNESCO per riconoscere il rito reserpari di Cocullo come patrimonio dell'umanità, ma l'associazione temporanea di scopo che comprende 13 comuni della devozione a San Domenico si avvia all'organizzazione dei cammini di devozione in programma dal 30 aprile al 6 maggio del 2018. Sono queste le ultime novità che arrivano da Cocullo che da anni sta portando avanti la causa del rito reserpari che spera del riconoscimento UNESCO ed ha anche buone possibilità. Il dossier del rito reserpari di Cocullo è finito sul tavolo dell'UNESCO già lo scorso 23 gennaio, ma non è quello completo che sarà depositato a fine mese e ha ottenuto parere favorevole, tant'è che è stato inserito nella lista salvaguardia urgente, un riconoscimento che accelera tutte le procedure dal momento che tali riti hanno una corsia preferenziale poiché si afferma il principio del rischio di scomparsa delle secolari tradizioni con il fenomeno dello spopolamento dei singoli territori. Ne consegue che si riconosce l'urgenza di adottare una serie di misure per frenare il declino di questo tipo di manifestazioni. La pratica per il riconoscimento del rito reserpari patrimonio UNESCO è stata portata avanti grazie al lavoro di rete sinergia che ha coinvolto 13 comuni, di cui 8 sono abruzzesi. Il minimo comune denominatore è la devozione a San Domenico, da cui l'inserimento del rito reserpari in un percorso che parte da Cocullo e arriva a Sora con l'abbazia di San Domenico ma anche a Pretoro con il miracolo di San Domenico e il lupo.